Visto nel mondo materiale, quando due famigli in mezzo hanno delle difficoltà spirituali e hanno di mezzo... Cosa posso rimettere quando c'è il canto del Santo Donone, obbiamo a Bumuseva il Vivo e Radarani? Quale di tre bisogna mettere in mezzo quando abbiamo difficoltà spirituali? Domanda. Allora, il maestro spese di guarda, poi il resto, il Santo Donone. Il Santo Donone, il Cristo deve cantare il Santo Donone, Sion, il Vivo, a Bumuseva e Radarani. Quale dei tre bisogna mettere in mezzo per uscire dalla crisi spirituale nei momenti che si passano i due panini che vanno da vita lunga? Siamo parlando di sandwich. Siamo parlando di dimenticare più di questi panini. Siamo parlando di fare qualcosa che non vogliamo fare questa crisi spirituale. Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare qualcosa che non ti dimenticherai più di Krishna. Perché Krishna è in between Radhika e Radhika Bhava. Perché Krishna è nel mezzo fra Radha e Radhika Bhava, il sentimento di Radharani. Non può scappare a Dvaraka. Questo è la cosa che riguarda il Signore Chaitanya. O isolating è Radhika Bhava e Radhe e Radha you see outside is Radhiga. Outside. Borden. È non Krishna. Nona Krishna Radha. Inside is Krishna Scottana. Ben things Richate Krishna. Cetaniam Cetaniam. Rightona. Yes Shatans. Antaravahe. Antarava. Antarava. And inside also one thing is there. Non solo c'è questa cosa ma è anche Krishna che ha preso il sentimento, l'umore, il bhava di Radaranya. E quindi al fuori è Radha, dentro è Radha e Krishna sta nel mezzo. Radha, come è l'umore, l'umore è Radha, in mezzo è Krishna. Alla ossia Radha, il bhava di Radha, in mezzo è Krishna, questo è il paneo. That is the sandwich. Transcendento. Passa dentro sangue. So this sandwich, you see, when you put the cheese, in both sides the bread, then the cheese cannot go out. Se mettiamo il formaggio in mezzo, quando il panino viene di 1.2, il formaggio non può scappare. Bloccato. Il ποirò. Il bloccato. Il bloccato. Il bloccato. Il bloccato. Perché è il è muotto! Ma è il vrenda, ma è il provato. Non è il divoci, ma è il corpo. quindi non esprimere Rishma, lui è un furbacchione è un devosciato fa tante maraghelle quindi lo devi prendere così com'è ci deve essere qualcosa che lo protegge questi due pezzi di panni che lo tengono ingabbiato you know, quando sei molto vicino puoi dire qualcosa che ti piace in that moon in Braja moon Braja, they say Kariya, Kalu Kalu, black Kariya, Kalu, nero Kanaim is Kala Kanaim is black Kala significa che è nero, scuro Negro they say outside is black and inside also black more black more black so don't believe this fuori è nero e dentro è ancora nero è ancora più nero quindi non credete a lui you can believe and it becomes a nero e voi potrete potrete credere a lui solo quando diventerà formato in mezzo al panino this is mercy of Ketan I understand this is mercy of Ketan that create keep us always Ketan means conscious always conscious like you will never forget sandwich you will angry when you will see that sandwich but you will remember Krishna there when you will say somebody is sandwich you will say oh Krishna is in between Radhika and Krishna this significa Ketan Ketan significa coscienza ricordo quando qualcuno parlerà di te di Krishna tu devi ricordare quel panino e che Krishna sta nel mezzo a questo panino ok dai 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 arrivo oh